Nel periodo invernale la gelateria Acropolis si trasforma nel luogo perfetto per trascorrere pomeriggi e serate all'insegna del buon gusto e della compagnia. Nelle sale interne o nel suggestivo spazio esterno, coperto e riscaldato, potrete vivere momenti conviviali in famiglia o con gli amici, gustando le prelibatezze proposte dal ricco menù che spazia dai gelati al salato. I gelati seguono rigorosamente la stagionalità dei prodotti e in questo periodo potrete gustare gusti ricercati e raffinati, come il gelato alla zucca, alle castagne, al melograno, al dattero, al caco, alle mele cotte e chiodi di garofano. Punto di forza la cioccolateria che propone la cioccolata artigianale preparata seguendo la ricetta tradizionale, con il cioccolato fondente, densa e cremosa, senza glutine e su richiesta anche senza latte. Tisane infusi preparate il momento con l'utilizzo del caratteristico alambicco, accompagnate da pasticcini rigorosamente fatti in casa. Inoltre, mille foglie artigianali con crema pasticcera e panna per le vostre ricorrenze. Su ordinazione potete prenotare la vostra torta e gustarla a casa. Sempre aperti fino alle 2 di notte, tranne il lunedì, l'Acropolis vi aspetta a San Giovanni Lupatoto.